Musica Buonasera dalla redazione di Irpinian News, vediamo le notizie del giorno. Ritorna a battagliero più di prima Antonio Di Pietro Adavellino, infatti ha tenuto un incontro in vista delle elezioni europee, sarà tra i candidati, ascoltiamolo. Italia Valori è una formazione politica che crede nel sistema bipolare e nell'ambito del sistema bipolare a livello europeo si è riconosciuto e si riconosce come una forza politica che fa parte dei liberali democratici europei che in Italia dialogano e costruiscono un'alleanza col centro-sinistra, ma col centro-sinistra vero, non quello falso, ma a te, te lo dico a te, tu non è che puoi raccontare chiacchiere, tu stai formando una maggioranza formale in Parlamento che ti darà la fiducia, ma una maggioranza sostanziale che hai fatto con quei 7 minuti nascosti con Silvio Berlusconi, il quale ha detto che insieme a te vuole riformare la giustizia, ma capisci a me, la giustizia vuole riformare lui, è quello che serve a lui, non quello che serve agli italiani. Piano sociale di zona 4 Avellino, l'assessore alle politiche sociali Stefano Laverde replica a D'Armando Masucci, ascoltiamo. Quello che viene asserito nella nota del commissario ad acta non risponde al vero, in quanto il dottore Masucci è venuto presso questo comune a presentarsi né più né meno, non è stato discusso il lavoro che è stato fatto, non è stata discussa la convenzione che a settembre era stata approvata ed adottata dal Consiglio Comunale di Avellino con l'annesso del regolamento, il perché si era arrivato, tutto il percorso, quindi quello che viene asserito vale a dire che egli si è confrontato con tutti i 16 comuni, ribadisco senza tema di smentita, non risponde al vero. Tra l'altro, consentitemi, questa amministrazione, coscia del ruolo che ricopre, vale a dire, comune capoluogo di provincia, non capofila, comune capofila dell'ambito territoriale, aveva offerto le strutture e tutto il personale a disposizione. Un fatto di cronaca ha sconvolto l'intera Irpinia, infatti a Prada Principato Ulta il parroco Don Giovanni Noto è stato aggredito e malmenato ed è finito all'ospedale. Di ritorno dalle cure dei sanitari il parroco ha detto perdono questi poveretti. Per l'attualità invece stamattina c'è stato un incontro per il trasporto pubblico locale, infatti si è tenuto il congresso provinciale della Filt CGL. Ascoltiamo le parole del coordinatore regionale Salzano. Noi oramai da ben tre anni mettiamo al centro dell'attenzione il problema del trasporto pubblico locale. Non è tollerabile che dopo tre anni di tagli che sono arrivati oramai al 30% ancora si riproponga un taglio del 13%. Questo sarebbe devastante soprattutto per le aree interne della provincia di Avellino e di Benevento. Noi per questo rivolgiamo un appello alle forze politiche sociali, alle istituzioni affinché si faccia battaglia comune perché quella del trasporto pubblico locale è una battaglia di civiltà per garantire la mobilità ai cittadini e quindi che non riguarda solo il sindacato e i lavoratori addetti ma riguarda in particolare le istituzioni che devono fare la loro parte perché se negli anni passati hanno garantito delle risorse devono continuare a farlo. Non si possono sottrarre ad un impegno anche economico. Prima di concludere questa edizione serale del Tg di Irpinia News un'altra notizia da Tripalda, Clinica Santa Rita, diventerà un polo specialistico per la cura dell'obesità. Ne abbiamo parlato con il dottore Stefano Cristiano responsabile dell'unità per il trattamento proprio dell'obesità. Noi abbiamo parecchie armi per combattere l'obesità, oggi abbiamo dei mezzi che naturalmente prima non esistevano e di grande efficacia. Al di là della terapia dietoterapia, quindi delle terapie dietetiche che rappresentano il primo passaggio del paziente, abbiamo delle terapie mini-invasive oggi, quali il pallone intragastrico, che permettono con un minimo trauma e senza intervento chirurgico di intervenire in maniera importante. Queste terapie vengono supportate successivamente nelle obesità anche più gravi dai veri e propri interventi chirurgici mini-invasivi che si fanno in laparoscopia, quindi con dei piccoli fori sull'addome noi riusciamo a ottenere dei grossi risultati grazie per esempio al vendaggio gastrico. Per la serata odierna è davvero tutto, arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!